Buongiorno amici, in questa nostra pillola di storia napoletana oggi parleremo del breve ed estremamente violento regno di Enrico VI di Svevia. Enrico VI di Svevia cala dalla Germania già nei primi mesi del 1194, subito dopo la morte di Tancredi di Lecce, l'ultimo re normanno. Arrivato nel sud Italia, immediatamente già nel settembre ottiene l'omaggio feudale a Troia, in Puglia, da parte dei principi normandi, sbarcato in Sicilia, assedia già nel novembre dello stesso anno la città di Palermo. A quel punto la regina reggente vedova dell'ultimo sovrano ottiene per il figliolo, il sovrano Guglielmo III, il bambino, figlio di Tancredi, la possibilità della vita salva e della contea di Lecce in cambio della ceditura del regno a Enrico stesso. Enrico accetta e il 25 dicembre 1194 viene incoronato nella cattedrale di Palermo. Tuttavia, soltanto tre giorni dopo, il 28 dicembre, ottiene l'arresto del ex sovrano Guglielmo III di sua madre e dei principali notabili del regno. Vengono imprigionati, alcuni vengono uccisi. Lo stesso Guglielmo III viene imprigionato, spedito in Germania, dove, come abbiamo visto, morirà pochi anni dopo, dopo essere stato accecato, evirato, torturato e viscerato. Insomma, una bruttissima fine per questo giovane re normando. È interessante che Costanza, la moglie di Enrico, non partecipava alla cerimonia in coronazione in Palermo il 25 dicembre, perché il 26 dicembre era presente in Puglia, proprio mentre partoriva il campo, insomma, la tenda reale, il futuro imperatore Federico II di Svevia, lo stupor mundi. Tornando, Enrico, Enrico, insomma, era un uomo d'alti tempi, un uomo violento e un uomo estremamente potente, un vero sovrano medievale, un vero sovrano germanico medievale. Era così potente, nonostante fosse giovanissimo, che addirittura l'imperatore bizantino gli pagava un tributo, l'allemanico o il germanico, che dir si voglia. E anche il principe di Antiochia, i principi di Armenia, insomma, il suo potere era immenso ed era cresciuto a dismisura in pochissimi anni. Tuttavia, il Regno del Sud, il Regno di Sicilia, non era pacificato. La pacificazione passava nelle mani di due luogotenenti di Enrico, che erano Marcovaldo di Hanweiler, che era conosciutissimo per i suoi crimini in Sicilia, e Diopoldo di Hoenburg, che era conosciutissimo per i suoi crimini nell'Italia peninsulare. Enrico aveva un acerrimo nemico. L'acerrimo nemico degli Svevi in quel periodo era Riccardo di Acerra. Riccardo di Acerra era stato l'eroe normanno dell'assidio di Napoli nel 1191. Ovviamente, alla morte del piccolo Guillermo III, Riccardo si ribella e comincia una guerra senza quartiere agli Svevi in tutti i sud Italia. La guerra dura circa due anni, quando alla fine Diopoldo riesce a catturarlo in terra di lavoro, ormai privo dei sostegni degli altri principi normanni, lo conduce in capo a dove viene giustiziato proprio la notte del 25 dicembre, qui sempre importante la notte del 25 dicembre 1196, e viene anche scorticato, trascinato per le strade della città e lasciato appeso ben tre giorni e tre notti nel centro della piazza del paese. La leggenda ci dice che un giullare della corte, mosso a pietà per l'antico principe normanno, che tra l'altro era famosissimo, importantissimo, ci erano cantate e ballate su Riccardo di Acerra come un eroe della libertà dei meridionali, mosso a pietà, lo libera e finalmente dà riposo alla salma del signore normanno. L'epopea di Enrico era iniziata nel sangue e finì nel sangue e fu anche molto breve. Resta sovrano soltanto tre anni, l'anno successivo nel 1197, pare che sempre mentre stava a guerreggiare per condurre all'obbedienza agli ultimi signori normanni di Sicilia, venisse avvelenato, muore in Messina nel 1197. La prima sospettata dell'avvelenamento è la moglie Costanza, stanca dello spadroneggiare del marito. Pare anche che insieme alla moglie Costanza avessero avvelenato il precedente sovrano Tancredi, quindi insomma questa Costanza per la storiografia è un personaggio abbastanza ambiguo. Comunque anche Costanza non sopravvive a lungo al marito, muore l'anno successivo e lascia il figliolo, il futuro stupormundi Federico Ruggero di Onstauf in Federico II di Svevi, nelle mani di precettore Marcovaldo di Ampeiler, che abbiamo visto essere un violentissimo tedesco in Sicilia, e del Papa. Io sono Ruggero Savarese e spero con questa mia pillola di storia napoletana di non avervi annoiato troppo, anzi spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like, se vi è piaciuta molto magari condividete. Bene, alla prossima!